All'interno della dimora del grande fratello, Greta Rossetti rievoca l'incontro con la madre, Marcella Bonifacio, in cui è intervenuto anche Mirko Brunetti. La concorrente riflette a voce alta, mia madre è venuta per proteggermi, voleva trasmettermi questo messaggio. Mirko dovrebbe rimanere lontano dalla mia esistenza, anni luce distante. Nel nucleo del grande fratello, Greta Rossetti si ritrova a rivivere mentalmente l'interazione con sua madre, Marcella Bonifacio. Il loro incontro, avvenuto nella puntata del 23 dicembre, è stato interrotto dall'intervento di Mirko Brunetti dallo studio, suscitando fastidio nella partecipante. In un dialogo con Rosanna fratello, la giovane concorrente condivide le sue riflessioni. È stato evidente che mia madre è venuta per proteggermi, lo ho capito dal suo suggerimento di andare via se lo desiderassi, nel senso di non sentirti in colpa se scegli di abbandonare tutto. Lei comprende il mio carattere, sa che non sono così determinata, anche se adesso mi rendo conto di aver compiuto dei piccoli passi avanti. Aveva l'idea che io soffrissi per Mirko e mi ha detto di andarmene, questo era il suo intento. Voleva anche condividere con me qualcosa che è successo al di fuori della casa, riguardante il comportamento di Mirko nei miei confronti, sottolineando che non c'è più motivo di difenderlo, cosa che io ho sempre fatto. Sul versante della relazione con Mirko, Greta ha preso una decisione ferma da un po' di tempo e non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Mia madre aveva ben compreso la situazione e lo ha detto anche a lui. Mirko dovrebbe restare lontano da me, a distanza siderale. Attualmente, non ci penso nemmeno. L'unica cosa che mi aspetto da lui è chiedermi scusa. Inoltre, l'emozione è salita quando Greta ha visto sua madre fare il suo ingresso nel salotto della casa. Mi sento bene ora che ti vedo, ha esordito Marcella Bonifacio. In seguito, ha continuato esprimendo il suo parere su Mirko e facendo riferimento anche a Perla Vatiero. Sono delusa. Tu sei stata coinvolta in questa situazione. Hai svolto il ruolo di mediatrice in questa coppia. Tra di loro c'era un vero amore. Mirko si è comportato male nei miei confronti fuori dalla casa. Ma non fa nulla, non mi importa. A questo punto, Mirko Brunetti ha preso la parola dallo studio. Non c'è alcuna riconciliazione. Mi dispiace se lei minimizza il sentimento che abbiamo condiviso. Greta, irritata, ha perso la pazienza e ha replicato. Questa è la nostra opportunità. Risolvete le questioni quando sarete fuori. Potrete discuterne a vostro piacimento fuori da qui? Io non ho intenzione di parlare di queste cose.